Riparte la palla a volo. Domani alle 21 la Virtus si prepara ad ospitare al Pallas Arselli le Alessandrine di Acquiterme. Dopo due mesi di pausa si torna quindi in campo. Gli allenamenti non si sono fermati a Chiavazza, ora c'è da ritrovare il ritmo partita. La Virtus è quinta in classifica, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione che quest'anno coinvolge le ultime quattro. Le Nerofucsia potrebbero, con una vittoria, avvicinare la vetta, ma le prime tre sembrano fuori portata. Coach Colombo ha potuto recuperare infortuni e acciacchi e si prepara ad affrontare un avversario in difficoltà di risultati. Le Alessandrine sono reduci da sei sconfitte consecutive. L'ultimo punto risale proprio alla gara di andata lo scorso 13 novembre. Biella riuscì ad espugnare Monbarone, una frazione di Acqui, non la vetta delle nostre prealpi, grazie a un 3-2 in rimonta. Da allora il roster di coach Marenko si è impreziosito con l'arrivo della schiacciatrice ucraina Vera Bondarenko, scesa di categoria dalla 2 e proveniente da Sassuolo. Il suo ultimo allenatore, coach Maurizio Venco, trasferitosi in Emilia dopo aver portato la Virtus Biella in B1 con la promozione del maggio 2019. Partita dunque abbastanza equilibrata. La Virtus ha inoltre aperto una mini campagna abbonamenti per le ultime sette gare stagionali. 30 euro per sette partite, compresa quella di domani, con la speranza che diventi ufficiale l'allargamento delle capienze dei palazzetti dal 35% attuale al 60%. In Serie C, il team volley cerca la decima vittoria in altrettante partite. Le imbattibili ragazze di Lessona cercano altri tre punti sul campo di trecate, sempre domani alle 20.30. In campo maschile, ripartenza in trasferta anche per la SPB. I ragazzi di coach di Leonardo fanno tappa a Chieri per sfidare i torinesi e cercare di rimanere in scia alle prime quattro e vedere la zona playoff. Obiettivo fattibile, ma le uniche sconfitte in stagione sono arrivate proprio contro le squadre che precedono la SPB in classifica.